Micro Machines! Ma quante sono le Micro Machines? Una collezione sterminata! Si! Sono super fiammanti! Sono metallizzate! E poi schizzano veloci! Micro avventurose! Le più famose a quattro ruote! Sono le Micro 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 Machines! Ultima novità! Le nuove Micro Machines cambia colore! Tre cambia colore incluse solo nella collezione special! Sono tre Micro Machines in più allo stesso prezzo! E' una serie limitata! Da G!